Io ai miei figli ho sempre cercato di insegnare come funzionano i soldi, direttamente ai miei figli per quello che è la mia esperienza pratica. Quindi quando io do dei soldi ai ragazzi mi aspetto che loro sappiano come dividerli. Quanti anni hanno loro? Adesso sono grandi, uno 17, uno 14. Però ti racconto perché è accaduto un episodio particolare. Soprattutto mi dispiaceva sempre quando magari i nonni, non lo so, per la comunione, per il compleanno, per qualcosa, gli davano dei soldi e questi soldi li dovevano sparire perché erano troppi per l'ora e non sapevano gestirli. Allora, fin da piccoli io gli ho detto se voi prendete dei soldini dovete avere tre cassettine. La prima cassettina è quella per le caramelle di tutti i giorni, ve le gestite voi, non potete chiedere i soldi a me, ma è il vostro portamonete libero. La seconda cassettina invece è di essere su un posto diverso, nascosto, ed è per il vostro medio desiderio, il desiderio di quest'anno. Quindi qualcosa che come obiettivo volete raggiungere quest'anno. Poi c'è la terza cassettina che gli ho riaperto il fondo pensione fin da piccoli e diceva questo qua invece è per le cose importanti, per quando sarete grandi. Quindi voi dovete sempre ragionare, quando avete i soldini, di ragionare come dividerli, intanto dividerli, quindi il principio della diversificazione, e sapere che per ogni cassettina c'è un obiettivo, quindi ragionare per obiettivo. E io l'ho fatto sui miei figli. Da che età hai cominciato, diciamo, a lavorarci su questa cosa? Fine asilo. Ah, caspita, ok. Cosa è successo? Prima del Covid, mio figlio più piccolo, giocando a calcio, ha avuto un bruttissimo infortunio, si è rotto tibia e perone scomposto, quindi operazioni, ferri, casini. E operazioni, poi, le varie, pensa, tutte quante le viti durante il Covid, quel periodo di marzo 2000. Immagino, immagino. E a giugno ha preso un sacco di soldi dall'assicurazione. E lì ho avuto la prova, ho detto, Edoardo, cosa ci facciamo adesso di tutti questi soldi? E lui mi ha detto, guarda, io dentro il portamonete soldi ne ho. Mi mancherebbero 70 euro per il mio medio desiderio, che quest'anno è il tablet, tutto il resto è papà dentro il fondo pensione. E lui mi ha detto, cazzo, no, tutti questi soldi qua dentro il fondo pensione, no, utilizziamo un'altra strategia della quarta cassettina, però... Ah, lascia la quarta. Mi ha stupito la sua maturità a 10 anni, perché erano più di 10.000 euro, quindi che lui mi rispondesse così, insomma, ha dimostrato che... E allora da lì ho detto, ma sai cosa faccio? Era il periodo del Covid, con la grafica, avevamo una grafica in azienda, abbiamo sviluppato un fumetto, il fumetto di Ministro Sordino, dove appunto insegnava questo metodo, questo modello, quindi 52 settimane e fare tutto quanto un piano. Questo fumetto poi l'abbiamo distribuito durante la scuola dei sicuratori facili, quindi gli altri sicuratori l'hanno utilizzato provando, hanno detto, caspita, funziona, perché se vuoi far star zitti i figli, i ragazzi, questi stanno zitti. Quindi è puntato più che altro verso elementari e medie? No, solo elementari. Elementari, ok. Elementari, alle medie leggi persi, alle elementari, poi abbiamo fatto uno studio, siamo andati a vedere in America cosa stavano facendo, visto che in America facevano anche la scuola per imprenditori, per me basterebbe anche la scuola per i risparmiatori. Poi siamo andati sulle cooperative per vedere quali sono i maggiori problemi, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo visto che in Italia non si fa niente, però avevamo messo l'attenzione su un tema importante, perché gli educatori ci dicono, quando i ragazzi arrivano alle medie, bar superiori, se non sono autonomi dal punto di vista della gestione dei soldi, vanno in cerca dei soldi autonomamente, perché? Perché non chiedono più soldi ai genitori, partono i piccoli spacci, piccoli furti, piccoli tagliamenti, baby prostituzione, adescamento sul web, tutta quella roba lì. Anche i big gang che si trovano sulle canali di città spesso ci si meraviglia perché sono figli di genitori benestanti, il problema è proprio perché non sono stati resi autonomi, indipendenti. E quindi poi questo sfocia nel problema degli adulti, quindi gioco d'azzardo, suicidi e quant'altro, è un tema importante la gestione del denaro, cosa funziona noi. E quindi noi abbiamo costruito e presentato... Si che si aggancia un po' al filone, che da una parte se sei fortunato impari a farlo, ma dopo diventi pessimo nella gestione, che sono due filoni totalmente separati, insomma. Come i commercialisti, a volte capita che sono bravi a farli ma a gestire i loro, magari non sono bravi o viceversa, insomma. Sì, sì. Quindi convocare genitori con figli, con il covid non è facile, però partiamo e lo facciamo per tutto il 2022, formiamo un centinaio di ragazzi, andiamo anche dentro una scuola paritaria e facciamo tutte quante le classi. Hai trovato difficoltà a entrare nel mondo scolastico? Ma sono due ore in cerca. Ah, addirittura. Quando siamo andati noi dall'istituzione è un disastro, non ci siamo riusciti. Però adesso finisco il discorso. Sì, sì, scusami. Ma vediamo che i genitori sono impressionati perché ci dicono, ragazzi, i figli non fanno più capricci, vengono al supermercato, non fanno più capricci, capiscono, cioè non mi chiedono più le cose perché sanno, perché stanno risparmiando. E quindi diciamo, caspita, questo è troppo forte, basta, creiamo un'associazione e facciamo proprio volontariato. Io ho fatto poi a scuola tre facce società benefit con la quale finanzio, mister Soldino e avanti così. Oggi continuiamo, abbiamo un asilo in centro abbassano, quindi teniamo i bambini gratuitamente e da lì facciamo partire il nostro marketing, quindi a conoscere questa cosa. Tutti i sabati mattina abbiamo le scuole che vanno avanti. Però siamo stati contattati poi da la scuola, la fondazione che gestisce le scuole paritarie più importanti d'Italia, quelle cattoliche, hanno 800.000 alunni. E tutto il progetto è andato giù da loro e l'hanno sposato. Quindi adesso stiamo partendo con un progetto strutturato su tutte quante le scuole. Bello, 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 bello. Caspita. Bei risultati, insomma. Sì, 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 inaspettati. E infatti stavo chiedendoti proprio quello, cioè ti saresti aspettato comunque che in così poco tempo ci fosse questo boom? Assolutamente no. Però è un bisogno enorme. Cioè che poi è, rientri in tutto quanto quello che facciamo noi. Cioè io insegno solo una norma, è la ISO 31000, gestione dei rischi. Quindi contesto, obiettivi, appetito al rischio. Che sia dell'imprenditore, che sia del genitore, che sia del bambino, il contesto è bambino alle elementari, che entra in prima elementare e scopre per la prima volta se è ricco o se è povero. Perché gli altri hanno delle cose che lui non ha o lui ha delle cose che gli altri non hanno. E lì iniziano le prime televendite tra di loro. Io ce l'ho, tu non ce l'hai. Poi vanno su web, oggi c'è il web, vanno me contro te, tutte quelle minchiate lì. È tutta una roba per vendere. È tutta, loro sono continuamente sottoposti a delle televendite. Sì, sì, è un bombardamento costante. E non hanno le armi di difesa perché purtroppo come genitori magari noi ce le siamo fatti perché sono nati in un altro contesto, in un altro periodo, un po' diciamo più difficile per certi versi ma migliore per altri e quindi abbiamo le difese immunitarie e loro non ce l'hanno. Esatto. In più adesso c'è la moneta virtuale, quindi sembra che i soldi cadano dal cielo. Non è come in anni nostri, dice i soldi o c'erano fisicamente o non c'erano. Certo, certo. Sì, sì. Quindi gli obiettivi quali sono? Gli obiettivi sono proprio quelli di far capire a cosa saranno i soldi, che non sono infiniti, che i soldi sono un mezzo e non un fine, come si ragiona. E l'appetito a rischio è, cioè ci vuole un tempo. Il tempo nostro che abbiamo visto che funziona è, ne facciamo queste sette lezioni in un paio di mesi, ok, un'oretta, un'oretta e mezza, quindi non serve. L'importante è che vengano ripetute, possibilmente per due o tre anni. Ah, ok. Ogni anno andando in profondità per vedere i risultati. Quindi andate fisicamente nell'istituto scolastico a tenere queste lezioni? Lo abbiamo fatto. Le fate anche online adesso? No, noi abbiamo la nostra sede, non ci piace. Abbiamo visto che con il pubblico è impossibile, anche se gli regali i soldi. Sì. Funzioniamo nel privato, dove c'è la dirigente che decide perché la scuola è piccola. Però è quello del pubblico, noi non vogliamo più saperne, perché sono lontani e in più sono sotto scacco di genitori. Cioè avrebbero paura già di mettere dentro un percorso del genere, perché la paura loro è. Noi insegniamo queste cose ai genitori, i genitori vengono qua a fare un casino, parliamo noi di soldi. Ah, però... Sì, sì, c'è una situazione molto critica. Invece con i privati o con i singoli genitori che sono sensibili al tema? E diventa più facile, insomma. Cioè è un paradosso, però Mr. Soldino interessa particolarmente i genitori che stanno meglio. Infatti le scuole private sono già... Per assurdo, Mr. Soldino è apprezzatissimo dei super ricchi, perché? Perché hanno un sacco di paura nei confronti dei figli che nascono nella ricchezza che faranno lavoro, che fanno casino. Pensa a te. Mentre chi non ha soldi pensa che... Non ha neanche il posto dove mettere le tre cassette, cioè se ce n'è una, insomma, basta e avanzo, in qualche modo. Però pensano già che sia una puttanata, sanno tutto quanto loro, la solita cosa. Proprio la mentalità da poveri, in qualche modo, da un certo punto di vista. Caspita. E poi dopo rientri in quel problema che si diceva delle baby gang e il resto, perché comunque il problema, l'esigenza dei ragazzi ce l'hanno comunque di volere le caramelle o di volere una cosa, le Nike o altro, insomma. Caspita, caspita. Ma quindi, cioè, operativamente, cioè se io fossi un genitore, ok, sensibile a questo messaggio o che altro, mi sta ascoltando anche Michele dall'altra parte, che anche lui ha due figli più o meno della stessa età, un po' più generale. Vieni, vieni, Michele, vieni. Lui è capo, tra l'altro. Quindi, chiedevo operativamente se uno dice, ok, bella sta cosa, lo voglio fare anch'io, che cosa posso fare e come mi devo muovere? Beh, l'associazione è solo a Bassano, quindi noi lo facciamo qui territorialmente a Bassano. Se invece, poi dipende, quindi se ho un genitore da solo io non ci posso fare niente, o vieni a Bassano non faccio niente. Certo, sì, sì. Invece è una scuola, una scuola che vuole fare questo percorso, noi diamo tutto gratuitamente, quindi diamo il testo, diamo il loro, se vogliono lo possono anche personalizzare, quindi possiamo fare un intro, una fine personalizzata sulla scuola, devono solo pagare le spese di stampa dei libri. e se vogliono li formiamo in presenza, vengono qua i docenti, lo facciamo gratuitamente come associazione. Quello che vogliamo è poi, visto che dobbiamo farlo, rendi contare che tal scuola ha usufruito del nostro processo e ha formato X bambini, ok? Il nostro obiettivo è formare con meno soldi possibili X bambini. Siccome io a questa cosa ci investo ogni anno di tasca mia 100.000 euro per volontariato, ok? Per ottenere. Costi di struttura, se ci sono dei locali, c'è dell'arredo, c'è del materiale, ci sono le maestre da pagare, c'è la divulgazione del processo, eccetera, eccetera. Quindi se 100.000 euro, se io devo fare del marketing per fare volontariato, capisci che è anche un po' una follia, ma per farlo partire ci sta. Però io non posso spendere 1.000 euro per formare un bambino, ok? Si può fare economia di scala perché se lo porto dentro su una scuola, invece di spendere 1.000 euro, spendo 50 euro. Certo, sì, sì, perché lo divido per le 20 persone. Questo è il mio interesse. Ok, ok, ok. Quindi gli unici che rimarrebbero tagliati fuori, tra virgolette, sono i genitori singoli, non all'interno, al momento di un settore specifico o nella zona di Bassano, ma che abitano un po' distanti, insomma. I genitori, se vogliono fare il percorso, c'è futurosentasorpresa.com e fare il percorso per loro specifico, solo che quello è a pagamento, vogliamo tenere divise le cose perché sennò poi sembra... Sì, certo, certo, certo. Ok, quindi diciamo io rientrerei in questa seconda categoria, volendo per questione di vicinanza o di lontananza o del fatto che non sono in una scuola magari sensibile a questo tema, però per il resto, insomma, comunque se lo dicevi che sono quelli un po' più avvienti o comunque quelli che sono già un po' più con il mindset giusto, mi sembra un ottimo punto di partenza. Mi piace. Non sapevo questo discorso delle scuole pubbliche, hai toccato un tasto abbastanza pericoloso. Ma diciamo che loro sono molto lontani e non sono di scuro lente che innova, ce ne siamo resi conto quando siamo stati chiamati giù a Roma, il progetto tra l'altro li abbiamo mandato anche al Ministero dell'Istruzione perché abbiamo avuto chi ce l'ha chiesto e segnalato, però non abbiamo mai sentito nulla. Nel contrario, la fondazione, adesso non mi ricordo come si chiama, ma è la fondazione più importante, insomma, d'Italia per quanto riguarda le scuole paritorie cattoliche, siamo andati già a Roma e loro ci hanno detto, no, guarda che queste cose qua siamo noi che le portiamo dentro per primi e poi... Pensa te, quando trovi il partner giusto che è allineato sulla stessa frequenza... Esatto. Tanta roba, tanta roba. Allora, Mister Soldino ha un percorso da fare in almeno quattro, ma meglio sei step. Ok, e allungati nel tempo è quello che potrebbe essere il... che devi aver tempo di metabolizzare la cosa. Ok, ogni step un'ora, ma meglio un'ora e mezza, i bambini si divertono un sacco, cioè il feedback nostro è dopo sei giornate ci dicono è un'ingiustizia che la scuola sia finita. Ok, perché il percorso gli piaceva... se Mister Soldino non piacesse sarebbe già chiuso, ma chi è che deve piacere? I bambini. Certo, certo, certo. Il format piace molto e poi abbiamo scoperto che è potente anche per i genitori, ma io ho capito che avevamo un format potente in mano perché in realtà non è lungo, è breve. c'è il fatto che io in sei lezioni dia già un'istruzione concreta a un ragazzo e tanta non ci devo mettere un anno. L'importante è che possa ripetere questa lezione più volte. Il secondo anno sarà vedere come è applicato la strategia. Sì, perché comunque matura anche lui come persona e avete voi anche i feedback per capire cosa possiamo migliorare eventualmente o dove possiamo... Esatto, quindi quello io ti dico già, quello che potete avere voi è una cosa molto semplice. Se siete interessati di venire qua con una persona che dovrebbe fare docente e noi lo possiamo formare gratuitamente, non è un problema. Abbiamo i kit e bisogna capire se li volete così come sono oppure se volete trasformarli che siano personalizzati su di voi c'è... Ma dicevi per le scuole fondamentalmente, ok? No, ma puoi farlo anche a nome tuo di azienda. Sì, sì, certo. In caso la scuola non c'entra niente, io non voglio avere a che fare con la scuola, voglio avere a che fare con... Con la persona, con la famiglia o con il ragazzo, sì. Certo. Questa roba qua. Quindi tutti quanti quelli che hanno come target i bambini, per me possono essere interessanti per... Solo che io, per essere chiaro, questa cosa qua è il mio progetto di volontariato. Non voglio che ci siano soldi. Certo, 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 certo. E la rendicontazione, visto che comunque Mr. Ciudino è un'associazione a tutti gli effetti. Perfetto, perfetto. Figo, mi piace come cosa. Tanto di cappello, soprattutto al fatto di essere riuscito a realizzarlo in così poco tempo con questo bel risultato, insomma. bello, bello, bello. Quindi niente, io vado sul sito e mi prendo il kit come genitore, per ora che è la cosa di partenza, se ho ben capito. E poi, adesso ne parlo anche con Michele, se c'è necessità di mandare. La formazione di questo docente avviene in quanto tempo? Cioè... Una giornata intera esce col manuale. Ok, quindi non devi fare avanti indietro. Noi siamo qui a Rimini, per intenderci. Non è lontano, ma non è neanche vicinissimo, tutto sommato, Bassano. Una giornata intera non di più. Ok, perfetto. E volendo potrai venire su anch'io come privato? Ma chiunque... Allora, ovviamente noi formiamo se c'è una strategia. Certo, 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 sì, sì. Formare la... è un dipendente. Ok, quindi se c'è una strategia che abbiamo trovato un veicolo con il quale portare il Ministro Soldino dentro al vostro percorso, allora strutturiamo un percorso affermativo e anche i feedback, perché comunque poi vogliamo esaltare questa cosa. Bene. Ti ringrazio, ti auguro una buonissima giornata e spero di sentirci presto, insomma. Grazie a te tanto. Ciao, 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 buona giornata.